Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Escursione in montagna per Zlatan Ibrahimović e Massimo Ambrosini. I due ex calciatori si sono sfidati tra le vette della Valle d'Aosta, ma solo uno di loro ha avuto la meglio. Mentre Ambrosini ha affrontato l'escursione di petto senza farsi scoraggiare dal dislivello, Ibrahimović ha fatto una fatica in mane. È arrivato alla meta per ultimo, con un fiatone anomalo per un ex sportivo. È proprio per questo che Massimo non ha potuto fare a meno di lanciargli una frecciatina. L'escursione in montagna aveva come meta un posto meraviglioso, il lago di Liconi. Ambrosini via Instagram ha immortalato l'arrivo di Ibrahimović e ha esclamato, te l'avevo detto, era meglio se rimanevi a Milano. La replica è incomprensibile, ma immaginiamo che contenga qualche parolaccia. Il campione svedese grazie a questa gita fuori porta ha capito che la fatica ormai non fa più per lui.